cari amici bella per tutti come dicevo perché purtroppo il caro danny wrestling mannaggia a lui non lo vedo più attivo su youtube bene togliamo da parte le tristesse problemi quant'altro e come vedete dall'immagine di videocopertina il grande daniel bryan la famosa faccia da capra farà ritorno nella season premiere di questa notte nella prima stagionale del 2020 di freddy night smackdown e oltre a lui ci sarà ovviamente la sfida titolata la difesa titolata per il titolo universale da parte di roman reigns che se la vedrà dall'assalto del mostro che cammina tra gli uomini braun stroman poi non è finita qui perché abbiamo un 3 contro 3 tutto il team del new day kofi kingston biggie e xaverwood si affronteranno shinsuke nagamora pinocchio in faccia cesaro e shimus e per finire ma secondo me ci sarà anche dell'altro che magari hanno organizzato geffardi andrà in uno contro uno che si preannuncia davvero un mostruoso contro the freak lars sullivan quindi ragazzi non perdiamoci la puntata la season premiere del 2020 di freddy night smackdown sarà una puntatona mi devi già pensare che farà un match lars sullivan e che ritornerà daniel bryan mamma mia noi ci vediamo per i prossimi video cari amici buon proseguimento di giornata buon fine settimana a tutti e alla prossima ciao e ricordate che al vostro nicolato luci si può si può assentare per qualche giorno ma poi ritorna sempre sempre ciao